Cari lettori. Siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di martedì 22 agosto, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal libro Ophelia di Lisa Klein, il film romantico, Ophelia, in onda sul canale canale 5 alle ore 21 e 20. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Ophelia. La storia di Ophelia, il suo amore per Amleto e il rapporto tormentato con la madre Gertrude di cui è la più crinomata dama di compagnia. Cresciuta e diventata una donna bella e intelligente, Ophelia cattura subito l'attenzione del bel principe Amleto. I due si lasciano andare a questo amore segreto ma gli intrighi di corte cominciano ad essere tragi. Il re viene assassinato. Questo evento porta il principe Amleto in una spirale dove l'unica speranza sembra essere la vendetta. Ophelia deve decidere tra il suo vero amore o la propria vita ed escogita un piano per fuggire per sempre in modo da non svelare mai un terribile segreto. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Un caro saluto.